Undicesimo capitolo Selene Dimenticare Quanto tempo ci vuole per dimenticare una persona? Nessuno sa rispondere. Forse nessuno ha mai calcolato il tempo giusto. Di certo occorre considerare una serie di fattori piuttosto rilevanti. Cos'era questa persona per te? Da quanto la conoscevi? Quanto tenevi a lei? Un sacco di inutili cazzate. Cos'eri per me, Caterina? La foto che sto fissando da circa 15 minuti non mi risponde. Kate ha pubblicato delle stories in cui tagga Vale scrivendo Ti amo ora e sempre. Che stronza. Non mi pareva che la amassi così tanto quando mi hai scopato l'ultima volta. Maledetta bastarda. Chiudo Instagram. Per oggi basta così. Ho salvato una trentina di profili papabili per la mia ricerca. Prima di finire quasi involontariamente sul profilo di quella... Ok, l'ho insultata a sufficienza. Non so nemmeno io il motivo preciso per cui continuo a salvare fotografie di sconosciuti. È iniziata per gioco. Si è trasformata in un'indagine serissima e ora è quasi un passatempo. O forse un modo per continuare a dirmi che un giorno troverò le risposte. Le risposte a tutte le mie domande. Sulla scrivania l'ennesimo disegno incompleto in mezzo a una marea di stupidi e inutili schizzi. Non voglio disegnare ancora quella faccia. Eppure non riesco a farne a meno. È l'unico modo che ho per renderla reale. Sento la porta d'ingresso che si apre. Con un balzo scatto in piedi. Sento dei passi. Cazzo. Dove ho messo la chiave? Mi guardo attorno. È sulla cassettiera. Mi allungo e con uno scatto ai limiti delle mie capacità atletiche riesco ad afferrarla e girarla nella toppa. Al sicuro. I muscoli si rilassano scampato pericolo. Pochi istanti dopo la maniglia della mia porta si abbassa con forza nel tentativo di accedere. Fregata di nuovo penso tornando a sedermi sul letto. Amore ci sei? La voce melenza di mia madre mi dà sui nervi. Sì rispondo secca ora vattene e non rompere. Ti va di cenare con me? Ma neanche per sogno. No ma ho da fare le dico mentre prendo di nuovo il cellulare. Apri la porta amore ti prego la sua voce è spezzata da un sentimento che non riconosco ma non me ne frega niente non può fare la mamma solo quando lo decide lei ho detto che ho da fare rispondo dura fissando la porta in cagnesco nessuna risposta aspetta un po' ma niente deve essersene andata è la cosa che le riesce meglio il cellulare tra le mani non so perché l'ho preso non mi serviva la sto a fissare l'immagine di fondo lo sguardo di Artemide che ho disegnato il mese scorso sembra quasi volermi rimproverare non sono io che mi comporto male è lei che non ha saputo essere una madre oddio tesoro scusa mi sono dimenticata l'anno prossimo mi faccio perdonare questa frase mi risuona nella testa da anni il giorno in cui mia mamma si è dimenticata del mio compleanno l'ho aspettata seduta da sola in cucina è tornata alle dieci di sera dopo una giornata di lavoro estenuante pensavo che mi avesse portato una torta quella è stata l'ultima possibilità che le ho concesso niente niente di niente solo scuse del cazzo ovviamente l'anno dopo non si è fatta perdonare guardo l'ora tra poco devo andare al lavoro avrei dovuto studiare ma la mia dipendenza da Instagram sta peggiorando soprattutto da quando ho conosciuto quella ragazza Diana abbiamo parlato una sola volta però mi ha incuriosito è stata parecchio evasiva quando le ho chiesto cosa stesse cercando mi nasconde qualcosa e io sento l'irrefrenabile desiderio di scoprire cosa trovato qualche nuovo indizio aspetto una risposta per qualche minuto fissando la chat niente che stupida perché cazzo dovrebbe voler parlare con me scoto la testa e mi alzo per andare a prepararmi spero che mia madre sia andata via non ho voglia di incrociarla attraverso il corridoio a testa bassa controllando la home di Instagram una nuova storia di Caterina non dovrei aprirla forse nell'equazione per calcolare il tempo necessario a dimenticare una persona bisogna inserire anche il numero di volte che guardi il suo profilo dai quante menate sarà uno dei suoi soliti selfie del cazzo ci clicco su I miss you cazzo serate interminabili sono stanca di lavorare in questo stupido ristorante non è questo che voglio fare nella vita e allora perché diamine sono chiusa in questo maledetto posto perché non hai soldi cogliona grazie vocina nella mia testa ora sono una persona migliore saluto il capo mentre esco dalla porta sul retro e mi incammino verso casa è mezzanotte passata le strade sono deserte proprio come piace a me si sente solo il rumore delle auto in lontananza l'eco delle voci che qualche ora prima hanno popolato queste strade ma ora sono scomparse mi è venuta voglia di trasformarla in un disegno prendo il cellulare per appuntarmelo sulle note ma la notifica di un messaggio su Instagram mi distrae Diana mi ha risposto no ancora niente di rilevante tu invece ancora non vuole sbuttonarsi non mi sorprende sono solo una sconosciuta che ha beccato per caso su un social devo guadagnarmi la sua fiducia per farla parlare niente di che ma dopo anni di ricerca non mi sorprende sei una novellina in confronto a me novellina dici forse hai ragione una risata ha capito che scherzo proviamo così dovresti prendere lezioni da chi è più esperto di te sembra quasi che io ci stia provando merda così la spavento pessima idea hai ragione conosci qualcuno di davvero bravo per caso fisso il messaggio a bocca aperta mi sta provocando scherza col fuoco ma forse giocherà a mio vantaggio butti via così l'opzione di imparare dalla maestra dello stalking ok ok mi hai convinto quando inizio con l'addestramento sensei bingo ti va se ci prendiamo un caffè domani sembra davvero che oggi stia provando non voglio darti false speranze Diana voglio solo sapere cosa stai cercando davvero chi mi dice che tu non sia una stalker pericolosa simpatica la ragazzina nessuno ma sei sicura di voler rimanere con il dubbio la risposta tarda un po' ad arrivare domani alle 3 in Garibaldi sarò la tipa con l'impermeabile e il passamontagna andata ora si fa sul serio che cazzo ha la mia gamba che non va sono le 14 e 57 sto aspettando che arrivino le 15 appoggiate al muretto di fronte all'ingresso della metro quando la mia gamba decide improvvisamente che è arrivato il momento di mettersi a tremare comincio a guardarla storto sperando che si senta in soggezione e la smetta ma niente alle 14.59 ha solo iniziato a tremare ancora più forte cazzo lei sarà qui a momenti e questa stupida maledetta inutile gamba non ne vuole proprio sapere di d'un tratto una vibrazione molto diversa da quella che sta attraversando i miei muscoli inferiori attira la mia attenzione sblocco il cellulare sperando che sia lei poi lo metto via delusa era solo una mail dalla segreteria universitaria la mia gamba ricomincia a muoversi ehi aveva smesso stronza sono le 15.01 e lei non mi ha ancora scritto continuo a sbloccare lo schermo del cellulare aspettando una notifica che non arriva 15.03 forse non viene una tizia con un sacco di volantini si avvicina per parlarmi le dico cortesemente che non mi interessa 15.04 mi ritrovo a fissare un cane al guinzaglio che fa pipì sulla moto di un tizio il tizio se ne è accorto ora sta litigando con la padrona 15.05 ma dove cazzo è finita? non viene è sicuro il tizio della moto se ne sta andando in prega il cane gli abbaglia contro hai iniziato tu ciccio 15.06 scendo dal muretto con un balzo la gamba continua a tremare a fare i capricci ormai è sicuro non verrà perché avrebbe dovuto non mi conosce sono una stupida non me ne frega niente delle sue stupide indagini ma mentre sto per imboccare le scale mobili non potrei mai usare quelle normali con questa maledetta gamba che vuole ballare il tip tap la notifica di un nuovo messaggio accende un barlume di speranza ehi scusa il ritardo sono qui tu dove sei? è qui oh è qui cazzo è qui è venuta perché è venuta? aspetta ma qui dove? comincio a cercare qualcuno che potrebbe vagamente corrispondere all'idea che mi sono fatta di lei ma a meno che lei non sia una donna in carne sulla quarantina con i capelli fucsia e un cane pisciasotto dubito che possa essere nei paraggi poi aguzzando lo sguardo mi accorgo di una ragazza che si guarda attorno lanciando qualche occhiata ogni tanto al cellulare che ha in mano è lei sono davanti all'uscita della metro le scrivo per poi osservare la reazione della ragazza che come immaginavo abbassa lo sguardo per leggere qualcosa sul suo schermo e poi torna a setacciare la strada con gli occhi è lei alzo una mano sperando che mi noti non ho voglia di chiamarla la conosco appena anzi no non la conosco affatto non ho idea di chi sia il suo sguardo si posa su di me stringe gli occhi per un attimo poi mi sorride e si avvicina e non è per niente come la immaginavo è vestita in maniera casual con una felpa gialla e un paio di jeans strappati ha i capelli mossi castani chissà perché la immaginavo più scura ok è arrivata basta con la descrizione ciao esclama palesemente imbarazzata mi guarda negli occhi però sono azzurri ciao rispondo accennando un sorriso piacere Diana mi porge la mano la guardo per un istante prima di stringerla che formalità selene conosco un bar qui vicino molto carino ti va sì mi va bene tutto inizia a camminare verso la piazza e io la seguo a ruota non parliamo molto durante il tragitto qualche frase di circostanza che metro hai preso oggi fa più caldo del solito sì sì sto bene un po' stanca ma bene tutto questo inframmezzato da imbarazzanti secondi di silenzio finalmente arriviamo al bar di cui parlava lei prende un cappuccino io un caffè macchiato ci sediamo al tavolo è ora? allora attacca lei grazie a Dio come vanno queste indagini? mi chiede versando una bustina di zucchero nel cappuccino infruttuose come sempre ci ha fatto l'abitudine e le tue? è ancora presto per domandarle cosa sta cercando per davvero ma intanto comincio mostrandomi interessata io ho iniziato da poco però sembra un'impresa impossibile ma quanta gente c'è su Instagram? sbuffo eronicamente davvero davvero troppa non abbastanza a quanto pare rispondo fissando il mio cucchiaino che gira nel caffè non ci ho messo lo zucchero non so perché lo sto girando comunque i tuoi disegni sono davvero belli come mai non hai fatto l'accademia di belle arti? hai un talento assurdo si inizia subito con le domande personali va bene meglio così arriverò prima al mio obiettivo avrei voluto ma mia madre non approvava troppi soldi per robaccia inutile testuali parole così ho ripiegato su psicologia beve un sorso del suo cappuccino come mai? mi chiede le labbra sporche di schiuma non sono brava a capire le persone speravo di poter imparare qualcosa mi ha insegnato a comprendere meglio solo i loro casini con i genitori però poco di più le rispondo per poi indicarle le labbra trattenendo un sorriso ironico lei si assulta imbarazzata si pulisce le labbra con un tovagliolo secondo me sei troppo dura con te stessa può darsi ciccia ma non è di questo che voglio parlare ora e tu? cosa vuoi fare dopo? non ci ho ancora pensato vorrei raccontare storie ma sto ancora decidendo come inizia raccontandomi la tua storia allora a volte sono davvero melenza ma per il mio fine ogni mezzo è lecito oddio mi fai sempre domande difficili che posso dirti? vivevo con mia madre in un paesino a centinaia di chilometri da qui ho fatto un liceo che non mi ha mai portato la soddisfazione che speravo ora abito con la mia migliore amica e il mio migliore amico fine della storia noiosa eh? piano piano andiamo per gradi vivevi con tua madre? sì i miei sono divorziati classico e non hai sorelle o fratelli? no mio padre ha un figlio acquisito dalla sua attuale fidanzata ma non lo sopporto quindi no beve un altro sorso del suo cappuccino non l'ha ancora finito e tua mamma ha consentito a farti andare a vivere da sola a centinaia di chilometri da casa? la mia piuttosto schiatterebbe si mette a ridere io non sto scherzando però mia madre non mi farebbe uscire di casa se potesse non era molto contenta però lei ha vissuto a Milano tanti anni fa credo che le piacesse l'idea che io continuassi ciò che lei non ha potuto fare si fida di me oh non lo metto in dubbio mi sembri proprio la classica studentella precisina e rompecoglioni dico ridendo e lei spalanca la bocca offesa ehi non sono mica una secchiona va bene va bene come dici tu quindi segui le orme di tua mamma che figlia modello alza gli occhi al cielo ma sta sorridendo e anch'io lei faceva l'accademia di belle arti per diventare pittrice poi è dovuta tornare giù perché beh perché era incinta di me così lei e papà sono tornati a casa e non ha terminato gli studi i tuoi si sono conosciuti qui le sto facendo troppe domande ma nessuna è quella giusta per arrivare al nocciolo della sua ricerca devo ammettere però che mi sto interessando la vita di questa tipa ne ha da raccontare non so hanno divorziato quando ero piccola non mi hanno mai raccontato la loro storia ma basta con queste cose tristi parla tu ora cavolo hai interrotto la mia raffica di domande stavo per arrivarci non credere che i miei racconti siano migliori dei tuoi rispondo evasiva non mi va di raccontare di me non è questo il motivo del mio incontro perché mi chiede avvicinando di nuovo la tazza alle labbra esito un istante non voglio non ora ma mi rendo conto che se non mi apro io lei non mi dirà mai cosa sta cercando un piccolo sforzo Selene per la tua sete di sapere anche i miei non stanno più insieme mio padre se n'è andato quando ero piccola non l'ho mai conosciuto ricordo solo alcuni tratti del suo volto nulla di più non aggiungo altro non ho voglia di imbarcarmi in tutte quelle cazzate freudiane sul rapporto con mia madre lei però pare essersi illuminata ascoltando le mie parole ha capito quindi i tuoi disegni io la interrompo annuendo e accennando un sorriso accondiscendente sì ciccia i miei disegni è lui che cerchi sui social qualcuno che assomiglia al volto di tuo padre alzo le spalle fissando un punto imprecisato sul tavolo ci provo con scarsi risultati magari lui non ha nemmeno instagram però mi dà speranza vedo la sua espressione cambiare addolcirsi un lampo di un'emozione che non riesco a definire attraverso i suoi occhi no ti prego la compassione no so cosa vuol dire sussurra aggrotto le sopracciglia ci siamo che intendi sospira e fissa la sua tazza ormai vuota ce ne ha messo di tempo anch'io cerco un ago in un pagliaio rimaniamo in silenzio per un po' voglio darle il tempo di arrivarci da sola senza metterle fretta sembra più importante di quanto pensassi diverse settimane fa ho trovato nel pc di mia madre un certificato di nascita mamma ha la fissa di salvare tutto non si sa mai ok bene buon per tua madre ma vai avanti cercavo qualcosa per scrivere un documentario su di lei un esercizio che ci hanno dato in uni trovo un certificato di nascita il mio non il suo ma è strano il cognome accanto al mio nome non è il mio cioè non è quello di mio padre eppure il resto dei dati madre compresa sono autentici capisci quel foglio parla di me ma dice che non sono chi credevo di essere resto a bocca aperta non so cosa dire non me l'aspettavo credevo stesse cercando un ragazzo misterioso o osservandola meglio una ragazza misteriosa sì è decisamente lesbica il mio radar non ha smesso di suonare nemmeno per un istante ma che cazzo vado a pensare ora che cazzo le dico wow 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 complimenti selene poi ti chiedi perché non è una ragazza che tatto già mi dice storcendo l'angolo della bocca e continuando a giocherellare con la sua tazza deglutisco ancora indecisa so come proseguire quindi tuo padre non è non lo so mi interrompe percepisco un briciolo di fastidio nella sua voce no direzione sbagliata selene non infastidirla non so se sia mio padre o meno non ho mai avuto molti rapporti con lui forse ha solo dovuto cambiare cognome dici che è una specie di spia magari con una battuta posso salvarmi inarca un sopracciglio divertita centro questa non l'avevo ancora sentita mi piace figlia di una spia l'ha presa bene non male cazzo tala un silenzio imbarazzato probabilmente entrambe abbiamo mille domande ma siamo entrate in una fase di conoscenza che ci confonde siamo abbastanza intime per farle o finiremo per mandarci a fanculo ma io sono qui per uno scopo e lo raggiungerò quindi immagino che le tue indagini riguardino quel cognome giusto lei annuisce sembra persa nei suoi pensieri chissà cosa le frolla per la testa esito un po' prima di parlare di nuovo ma c'è qualcosa una forza incontrastabile dentro il mio stomaco che mi spinge a pronunciare queste parole senti se vuoi cerchiamo insieme ogni tanto tu mi dai una mano io ti do una mano scambio equo tra una cinefila guerrita e una psicologa fallita ok il suo bronzo pensieroso si trasforma lentamente in un timido ma bellissimo sorriso bellissimo piano selene no non ancora almeno ok acconsente forgendomi la mano la stringo e il nostro patto è sigillato anche se non ci sono stati scambi di saliva di sangue o di altri fluidi corporei qualcosa mi dice che niente potrà infrangerlo e la cosa mi rende inaspettatamente serena mi piace l'energia che emana questa ragazza voglio saperne di più e mentre torno a casa passeggiando fra le vie affollate di Milano un pensiero attraversa la mia testa come un fulmine a ciel sereno cazzo mi sono dimenticata di chiederle il cognome di chiedere il cognome